All'interpellanza 4.018, progetto di ampliamento della discarica per i fiuti non pericolosi in territorio del comune di Vescovato, località di Cassinetto di Malagnino. Primo firmatario, il consigliere Fiasconaro ne ha facoltà per la presentazione. Grazie Presidente. Oggetto dell'interpellanza è l'ampliamento della discarica nel comune di Vescovato, in località Cassinetto di Malagnino, Cremona. I due provvedimenti con i quali la discarica è stata autorizzata risalgono, la vicenda risale al 2007. Nel 2010, con la determina 65-80, la Direzione Generale ha dato giudizio positivo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento della discarica e nel 2012 ha rilasciato l'autorizzazione LAIA, l'autorizzazione integrata ambientale. I proprietari dei terreni interessati dall'esproprio per l'ampliamento della discarica hanno fatto ricorso al TAR rispetto a questi provvedimenti. Il TAR di Brescia, con sentenza 395 del 2013, ha annullato questi provvedimenti. Regione Lombardia, con delibera del giugno del 2013, ha deciso di promuovere un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza di annullamento del TAR di Brescia e ha affidato all'Avvocatura regionale il provvedimento, dando atto all'Avvocatura regionale di potersi avvalere della consulenza esterna dell'Avvocato Quici, dello studio associati, professor Molè. Ricordo che questo Consiglio ha approvato all'unanimità una mozione nel luglio del 2013 sulla questione della gestione dei rifiuti, in cui si parla chiaramente di marginalizzare il ricorso allo smaltimento in discarica e quindi evidentemente questo atto di indirizzi, di impegno verso la Giunta, cozza con l'obiettivo di ampliamento di questa discarica. Quello che chiediamo all'assessore è innanzitutto quali siano le ragioni che hanno spinto la Giunta a ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR di Brescia a che punto sia il procedimento di impugnazione presso il Consiglio di Stato e se il Consiglio di Stato si sia pronunciato in sede cautelare quale sia il costo complessivo di questo ricorso sostenuto dalla Regione Lombardia e quindi dai cittadini lombardi e quale sia anche l'onorario, l'eventuale onorario corrisposto all'Avvocato Quicci dello studio Molè ed Associati a cui è stata affidata l'eventuale consulenza esterna e infine se l'assessorato e la Giunta non ritenga anche alla luce delle disposizioni, degli impegni che sono stati approvati all'unanimità con la mozione che citavo prima, non ritenga opportuno alla luce di tutto questo e anche alla luce delle nuove percentuali di raccolta differenziata che si sono stabilite e che si dovranno raggiungere, non ritenga opportuno sospendere questo iter autorizzativo e sostanzialmente dare seguito a quella che è la sentenza del TAR di Brescia Grazie La ringrazio consigliere Fiasconaro Assessore Terzi, prego Sì, con un ringraziamento particolare al Vicepresidente per il piacere per avermi fatto anticipare l'interpellanza Allora, precisazione iniziale come lei ben sa la politica di questa amministrazione regionale va nel senso che lei diceva tutto il piano rifiuti si basa su un aumento della prevenzione nella produzione di rifiuti quindi meno produzione di rifiuti, quindi meno necessità di smaltirli quindi sia per gli inceneritori che per quanto riguarda le discariche con una precisazione rispetto all'impianto in questione che è gestito dalla società AEM Cremona S.P.A. per cui l'impianto smaltisce le frazioni residue a valle del recupero e dell'incenerimento o eventualmente è stato autorizzato per tamponare le momentanee situazioni di emergenza ovviamente questa rientra in quelle che sono le definizioni di ruolo marginale o residuale della discarica in quella che è la filiera appunto della gestione del rifiuto coerente con la mozione che lei diceva venendo ora velocemente a quelle che sono le vostre istanze e domande prima di tutto vi dico che i motivi che hanno spinto la regione Lombardia ad impugnare la sentenza, le dico che la sentenza del TAR numero 395 del 2013 prevede nei motivi di annullamento basa l'annullamento sulla lunga durata del procedimento e sulla necessità di nuove specifiche tecniche il ricorso che il settore giuridico della regione Lombardia ha fondato a motivo del suo ricorso davanti al Consiglio di Stato è la contestazione della natura ingiustificata della durata del procedimento e della necessità di attualizzare il provvedimento con nuove specifiche quindi di fatto il motivo per cui si è deciso di ricorrere è il fatto che ovviamente non condividiamo l'annullamento basato sulla lunga durata del procedimento le motivazioni tecniche per impugnare la sentenza del TAR Brescia innanzi al Consiglio attengono in particolare a. che l'ampliamento era specificamente previsto nel piano provinciale per la gestione dei rifiuti della provincia ovviamente di Cremona e b. che con la cessazione dell'attività della discarica di Malagnino la provincia di Cremona si trova sprovvista di un impianto in cui smaltire il rifiuto urbano residuo venendo poi alle altre domande lo stato del processo e il ricorso che è il numero che ha come ruolo generale il 5185 del 2013 non prevede domande cautelari e ad oggi non è stata ancora fissata l'udienza il costo dell'impugnazione per Regione Lombardia monta a 975 euro per il contributo unificato il difensore interno di Regione Lombardia è l'avvocato Fidani il compenso invece per l'avvocato Quici che attiene alle attività di mera domiciliazione ovviamente escluso a quella che è l'eventuale sostituzione in udienza o altre connesse ad attività che siano strettamente legate alla domiciliazione fino ad un massimo di euro 800 oltre IVA da accessori di legge per i motivi che stanno alla base del ricorso al Consiglio di Stato ovviamente si ritiene di dover continuare a sostenere il ricorso e di non poter per ovvi motivi rinunciare all'impugnazione anche perché ovviamente vorrebbe in questo senso dare conferma al TAR che ha annullato basandosi sulla lunga durata del procedimento e la necessità di nuove specifiche tecniche che secondo noi erano state ampiamente e puntualmente approfondite e affrontate La ringrazio Assessore Terzi per la replica Consigliere Fiasconaro Grazie Presidente e grazie Assessore Sì, diciamo che possiamo considerarci parzialmente soddisfatti sicuramente come poi ha spiegato anche bene nella sentenza del TAR oggettivamente l'iter burocratico è durato più di qualsiasi comprensibile durata 1663 giorni e ritengo che sia anche, lo dice anche il Tribunale ma comunque ritengo che sia fondato anche il fatto che il progetto del 2007 aggiornarlo al 2014 è evidente che l'aggiornamento sulle specifiche tecniche è un aggiornamento sostanziale quindi credo che questo sia, insomma, l'ho capito anch'io che non sono un tecnico e non sono un addetto ai lavori e quindi mi sembra abbastanza chiaro e oggettivo detto questo, ripeto, siamo parzialmente soddisfatti e non capiamo per quanto la discarica possa avere un ruolo marginale e smaltisce il rifiuto urbano residuo come si sposi con queste nuove linee guida che sono state approvate nel piano regionale dei rifiuti per il resto delle risposte chiedo se è possibile avere copia della documentazione scritta per approfondirle con più tempo grazie